I giovani a 11 anni vivono ancora a casa con i genitori, mandateli via, ma fategli fare i jazzisti a Brooklyn, i ballerini a Buenos Aires, i tiktoker a Napoli, ma mandateli via da casa, confondete i vostri figli, ditegli questa casa è un albergo, devi fare il check out, tanto TGO localizzo, ma cacciateli via, non dategli da mangiare a questi ragazzi, i sognatori non mangiano, mangiare appesantisce, chi dorme non piglia pesci, chi fa per sé fa per tre, rosso di sera, bel tempo si spera! Ma ci rendiamo conto, ai genitori dico sempre, non fate usare il congiuntivo a casa ai vostri figli, è pericoloso, ai giovani invece dico, pregatevene dell'ambiente, non fate la differenziata nella vita, fate la differenza, è più importante! Sognauro una volta disse, datevi il tempo, perché la vita è un brivido che vola via, tutto un equilibrio sopra la mano, forse questo è un altro!